Ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sanitaria. Oggi parliamo del desiderio di avere un figlio, ma spesso questi problemi di avere un figlio non dipendono dalla donna, ma da problemi maschili. Trattiamo l'argomento con il dottor Marco Manenti, andrologo. Dottore, cos'è l'infertilità maschile e qual è l'incidenza sulla popolazione? Buongiorno. L'infertilità maschile, o comunque infertilità di coppia, perché stiamo sempre parlando di un uomo e una donna che cercano figli, e la definizione è la ricerca infruttuosa di prole entro un anno di rapporti liberi non necessariamente mirati nei giorni fertili. Quindi dopo un anno di rapporti liberi senza concepimento si parla di infertilità. La causa maschile di infertilità praticamente è presente, una componente maschile nel 40% delle coppie desiderose di prole. Il 40% ha una causa espressamente e unicamente femminile, e invece nell'altro 20%, quindi per arrivare al 100% delle coppie, hanno una compartecipazione maschile e femminile al problema. L'incidenza delle coppie che hanno problemi di infertilità nella popolazione generale è di circa il 20%. Ma c'è una differenza tra infertilità e sterilità? Sì, la differenza è sostanziale. L'infertilità è una ridotta capacità di concepimento, però con mantenute ancora possibilità di concepire sia spontaneamente che con tecniche di riproduzione assistita. Mentre invece la sterilità, il termine sterilità, si utilizza solo in casi di impossibilità completa a concepire. Faccio l'esempio, donne che sono in menopausa o che si stanno avvicinando alla menopausa, donne che per vari motivi non hanno più l'utero o non hanno più le ovaie, entrambe le ovaie, uomini che sono azospermici, cioè che non hanno spermatozoi nel liquido seminale. Questi uomini erano considerati sterili, adesso invece è ancora possibile provare a recuperare gli spermatozoi con interventi chirurgici o con agoaspirazione testicolare. In alcuni casi riusciamo comunque a recuperare degli spermatozoi utili per tecniche di riproduzione assistita. Ma ci sono dei sintomi che ci fanno presagire un possibile infertilità? I sintomi sono più evidenti nelle donne. Nelle donne, in effetti, molte donne hanno dei problemi di ciclo mestruale, alcune addirittura hanno un'assenza completa di ciclo che si chiama amenorrea. Questa assenza può essere la causa di problemi importanti di ovulazione, quindi la donna è consapevole di avere questi problemi, altre donne hanno dei cicli molto brevi, altre molto lunghi, anche questi due sono problemi correlati alla fertilità. Altre donne possono avere dei problemi di dolori mestruali molto forti oppure dolori intensi durante il rapporto, che sono spie di processi infettivi o di aderenze che possono creare dei problemi di sterilità tubarica. Nell'uomo i sintomi sono abbastanza più sfumati, spesso l'uomo si presenta alla visita andrologica senza mai aver avuto nessun problema e la sorpresa avviene poi durante la visita. Più che dei sintomi ci sono dei segni che in teoria l'uomo avrebbe potuto cogliere, per esempio un ridotto volume testicolare. Spesso e volentieri però queste persone, nonostante facciano parte di coppie di lunga data, non hanno mai notato né il marito né la moglie la presenza di questo importante segno che è questo ridotto volume testicolare. Quindi le cause che determinano l'infertilità maschile quali sono? Allora, le cause maschili sono innanzitutto questo ridotto volume testicolare o ipogonadismo, vuol dire una riduzione proprio volumetrica, di solito su base genetica o costituzionale. La seconda causa molto frequente è il varicocele, cioè una dilatazione venosa delle vene testicolari, soprattutto a sinistra, poi eventualmente approfenderò questo argomento, che però è molto frequente nel paziente infertile. Terzo problema importante, le infezioni delle vie genitourinarie e le ostruzioni. Ci sono delle patologie ostruttive, sia infettive, ma anche genetiche, che comunque determinano dei grossi problemi di infertilità. Quindi nel caso di una coppia quali sono gli esami che devono essere effettuati per poter accertare un'infertilità? Nel caso della coppia intanto ci tengo a dire che dovrebbero essere esami eseguiti in maniera sincrona, parallela, non come avviene spesso, che la donna di solito, per motivi così ormai di tradizione, si sottopone a incessanti esami lunghi e magari invasivi esami e l'uomo magari non ha fatto nulla. Sarebbe meglio intraprendere un percorso comune che incomincia con una semplicissima visita ginecologica con ecografia interna, transvaginale, per valutare utero e ovaie e degli esami ormonali che la donna può fare semplicemente in terza giornata del ciclo. Sono esami molto semplici ma che ci danno già una importante valutazione della funzione ovarica femminile. Parallelamente l'uomo può fare una rapida e semplice visita andrologica. La visita andrologica non deve essere confusa con la visita urologica. È una visita molto più semplice, molto meno temuta dagli uomini perché non comprende la famigerata esplorazione rettale. È una visita che viene effettuata con il paziente in piedi perché così è più facile per l'andrologo che sta seduto davanti al paziente riuscire a evidenziare il volume, la consistenza dei testicoli. Poi ovviamente questa visita che è piuttosto veloce può evidenziare anche la presenza del varicocele. È accompagnata da una rapidissima e semplice ecografia e poi deve essere seguita dall'esame fondamentale per la diagnostica della fertilità maschile che l'esame del liquido seminale. È un esame semplice, importantissimo, che deve essere ovviamente eseguito rispettando dei rigorosi criteri di raccolta e deve essere soprattutto letto in centri specializzati da operatori esperti. Le rego la domanda di un telespettatore. Quanto tempo occorre aspettare prima di chiedere aiuto se la gravidanza non arriva? Dipende senz'altro dall'età della coppia e soprattutto nell'ambito della coppia quella che noi consideriamo di più è l'età femminile perché poi è quella che comanda un po' tutte le tempistiche di diagnostica e di terapia della coppia. Se la coppia è molto giovane io posso anche consigliare di aspettare un anno, ovviamente, se questa coppia si impegna a ricercare il figlio almeno con rapporti abbastanza mirati nei giorni fertili. In caso di coppie più avanti degli anni e più avanti io intendo una donna già che sia sui 35, 36, 37 anni non aspetterei un anno a fare i primi semplici accertamenti soprattutto se già ci sono dei sintomi che fanno pensare dei problemi. Ho capito. Perché a volte un figlio non arriva e nonostante non ci siano problemi nella coppia e poi accantonato il problema il bambino, la donna rimane incinta? Questa è un'osservazione comunissima che vediamo molte volte, molto frequentemente intanto bisogna proprio rimarcare la differenza tra l'uomo e la donna la donna produce un solo uovo al mese un solo uovo, l'uomo produce milioni di spermatozoi una donna è di solito storicamente più ansiosa per il problema dell'infertilità diventa molto triste, molto angosciata spesso piange quando arrivano le mestruazioni arriva in uno stato proprio di frustrazione, di angoscia e di negatività totale e a quel punto anche se magari non esistono chiari problemi di infertilità questa donna praticamente vive uno stato di insoddisfazione che la porta anche all'infertilità quando o si iscrive a programmi di riproduzione assistita o ancora peggio avvia le pratiche di adozione o ritira addirittura il bambino adottato molto frequentemente la donna riesce a concepire perché l'ipofisi che è il ponte di comando endocrinologico che abbiamo nel centro del cervello che comanda la funzione della qualità dell'ovulazione è sottoposta a tutta una serie di stimoli stressogeni cerebrali che determinano quindi nella donna troppo ansiosa una stimolazione non corretta dell'ipofisi e poi dell'ovaio successivamente e quindi una qualità dell'ovulazione sicuramente non buona e quindi un'infertilità Quanto spontaneamente gli uomini si rivolgono a un andrologo? Spontaneamente molto poco di solito sono spinti dalla partner che in questo senso ha un ruolo secondo me abbastanza importante perché quando la partner dà questo consiglio se c'è una buona stabilità nella coppia l'uomo è quasi obbligato ad andare devo dire che le nuove generazioni probabilmente leggono su internet affrontano il problema e ultimamente vedo che si affacciano con un po' più di tranquillità una prima visita andrologica Adesso una curiosità Un tempo esisteva il servizio di leva che sottoponeva ovviamente gli uomini a una visita Il servizio di leva oggi non è più obbligatorio e quindi questo non avviene Spesso forse nel servizio di leva venivano riscontrati i problemi legati all'aspetto maschile Quindi oggi tolto il servizio di leva quanto prevenzione si può fare? Ha detto bene Non esiste più questo servizio obbligatorio con visita comunque non effettuata da medici specialisti in andrologia ma che permetteva proprio di screenare di fare un primo screening Sarebbe invece importantissimo e fondamentale proprio alla fine della pubertà cioè intorno ai 16, 17, 18 anni eseguire una prima visita andrologica perché è proprio alla fine di questo periodo della vita che si possono già evidenziare delle patologie molto insidiose perché sono asintomatiche quindi non danno alcun disturbo come per esempio il varicocele che se corrette in tempo possono risolvere il problema della fertilità oppure patologie asintomatiche che però vanno a documento della salute del paziente come il tumore del testicolo che ha una piccola incidenza proprio tra i 12 e i 25 anni ma si evidenziano solo nella loro gravità quando si è già andati troppo avanti oppure anche patologie che possono influire sulla felicità della vita sessuale successiva sono ragazzi che magari non hanno un buon rapporto con la pelle del glande del prepuzio non lo scoprono hanno paura di scoprirlo hanno la pelle che stringe non sanno a chi rivolgersi hanno paura di rivolgersi al medico di famiglia temono che il problema sia irrisolvibile che sia grave in realtà certe volte una semplice visita risolverebbe questo tipo la ringrazio dottore per queste utili informazioni quindi speriamo che i nostri telespettatori soprattutto il pubblico maschile abbia ascoltato con attenzione e superi ogni forma di ritrosia e si rivolga e faccia una visita dall'andrologo ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e vi invito alla prossima puntata della trasmissione in salute grazie e arrivederci grazie a tutti